Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi, nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, andiamoci dentro col video. Il caso di cui vi parlo oggi ci riporta nel periodo del lockdown da Covid-19, quando in alcune circostanze i soggetti più vulnerabili e indifesi sono stati isolati e trascurati. E quale orrore più grande può sommergerci se a fare del male sono proprio le persone più care alle vittime? Kyla Tidford nasce nel 2004 in Galles, nel Regno Unito, e purtroppo soffre di idrocefalo congenito. Si tratta di una malformazione del sistema nervoso centrale che comporta una dilatazione anomala dei ventricoli cerebrali causata dalla compromissione della circolazione del liquido cerebrospinale. Questa malattia può essere ereditaria o acquisita durante eventi successivi alla nascita o generarsi nell'utero. A ogni modo, certe volte è molto pericolosa, ma nel caso di Kyla i medici riescono a intervenire in tempo e senza lasciarle alcun segno di deterioramento cognitivo, un rischio che può verificarsi in queste particolari condizioni. Cioè, nonostante, Kyla ha altri numerosi problemi. È nata con la spina bifida, una malformazione congenita provocata da un difetto nello sviluppo della colonna vertebrale e del midollo spinale. Di conseguenza ha serie difficoltà connesse alla deambulazione, non riesce a utilizzare le gambe. Insomma, gli esordi nella vita di Kyla non sono affatto facili, ma lei è una combattente e anche crescendo prova a essere indipendente per quanto possibile. Tutto ciò che è in grado di fare vuole compierlo da sola, nonostante le importanti limitazioni legate alla disabilità. Ad esempio, Kyla non permette a nessuno di spingerla sulla sedia a rotelle, preferisce spostarsi da sola. E la sua grinta la porta ancora più lontano. Infatti, Kyla ama lo sport, in particolare giocare a basket in carrozzina. Riesce a gareggiare anche a livello nazionale e il suo allenatore sostiene che è davvero brava, tanto da avere il potenziale per partecipare alle Paralimpiadi in futuro. Kyla è tenace e talentuosa. Forse non avete mai visto una partita di basket con i giocatori che si muovono sulla sedia a rotelle, ma potete immaginare che sia davvero impegnativo dal punto di vista fisico. Dunque, il potenziale di questa ragazza è immenso e lei ha una determinazione e una positività che fanno proprio parte della sua natura. Il suo allenatore afferma che lui e Kyla giocano spesso anche a carte o a biliardo insieme e lei si rivela addirittura un'imbrogliona più abile di lui. Il pizzico di astuzia che caratterizza la personalità di questa ragazzina è una sfaccettatura del suo coraggio. Kyla non considera limitata la sua vita, ma cerca in essa nuove occasioni nonostante gli ostacoli che deve superare quotidianamente. Viene descritta dalle persone che la conoscono e la amano come una ragazza adorabile. È dolce, gentile e compassionevole e va d'accordo con tutti. Kyla riceve un'istruzione tradizionale grazie alle scuole e dotate di servizi per gli studenti con bisogni educativi speciali. Hanno dipartimenti specializzati, strutture fruibili da chi si trova sulla sedia rotelle. Tuttavia frequentare le lezioni rimane un'impresa per la giovane. Purtroppo non tutti gli studenti accolgono con piacere i compagni che considerano diversi. Inoltre Kyla deve già affrontare tutti i giorni i limiti che le impone il suo corpo. Le si presentano quindi delle difficoltà aggiuntive di tipo relazionale, sociale ed emotivo, ma lei si mette in gioco. E anche questo ci racconta tanto del suo coraggio e della sua caparbietà. Kyla è stata iscritta all'asilo pubblico all'età di 4 anni, proprio come tutti i bambini. Dopodiché ha frequentato le elementari. Infine, all'età di 11 anni, inizia le medie e la scuola le piace davvero tantissimo. È una ragazzina molto loquace e divertente. Il personale scolastico afferma che Kyla ha combattuto contro le avversità e le ha vinte. Dunque, se coloro che la conoscono le attribuiscono tale riconoscimento a una così giovane età, si aspettano che il futuro di Kyla sarà promettente. Quanto alla famiglia di Kyla, i suoi genitori si chiamano Sarah Lloyd Jones e Alun Tithford. Inoltre, la ragazzina ha ben 5 fratelli. Vivono a Newtown, una cittadina del Galles centro-orientale che fa parte della contea di Poes, situata lungo il corso del fiume Severn. Considerando la disabilità della figlia, i coniugi Tithford adattano la casa alle sue esigenze, ristrutturando soprattutto la stanza al piano terra. Il governo nel Regno Unito fornisce sovvenzioni ai cittadini con problemi di mobilità, migliorando la qualità della vita del disabile in un ambiente dignitoso da condividere con il resto della famiglia. Tuttavia, i genitori di Kyla non si dimostrano particolarmente inclini ai comportamenti prosociali. Sarah e Aulon hanno una relazione instabile con la figlia, tanto che la polizia si recca nella proprietà in diverse occasioni e ritrova all'interno della casa dinamiche disfunzionali e caos. Spesso a chiamare la polizia sono i vicini di casa, altre volte proprio la madre o il padre di Kyla. Purtroppo la ragazzina non vive in un contesto familiare ideale. Le insegnanti di Kyla, più premurose, fin da quando lei ha quattro anni temono che il suo peso rappresenti un problema, vista la sua età. I professionisti designati vogliono assicurarsi di poter gestire il suo peso nel modo appropriato. Quindi iniziano a lavorare a stretto contatto con la famiglia per affrontare e risolvere tali problemi. Tentano di indirezzare Kyla verso una dieta più sana. Quando lei raggiunge i 7 anni, questo approccio si rivela efficace. Il peso della bambina si stabilizza, quindi gli sforzi fatti sia dalla bambina che dai suoi genitori danno frutti. È un passo davvero positivo per lo sviluppo della mentalità di Kyla, che come sappiamo diventa una ragazzina sportiva seguito della perdita di peso, ama muoversi e conduce uno stile di vita molto più sano. Ma purtroppo sua madre Sara sembra piuttosto disinteressata a questo successo. Partecipa a uno solo degli incontri previsti con i professionisti. Sicuramente lei aveva contribuito al raggiungimento del risultato della sua bambina, ma questo approccio salutare non dura lungo. Infatti, entro due anni dalla rieducazione alimentare, il peso di Kyla torna a essere una preoccupazione. Sara aveva potuto sfruttare l'opportunità di ottenere supporto. Le erano stati forniti consigli e aiuti che si sono rivelati tutti efficaci. Poi però la donna ha abbandonato completamente queste linee guida, consentendo di nuovo a Kyla di raggiungere un peso pericoloso per la sua salute. Questa è un'evidente negligenza. Quando ha 13 anni, un'età ancora giovanissima, Kyla pesa già 107 chili ed è allarmante. Vorrei mettere in chiaro una cosa. Constatarlo non significa certo fare body shaming o negare che tutti i corpi vadano accettati e abbiano il diritto di esistere e di essere trattate dignitosamente. Qui stiamo parlando di altro. Stiamo parlando di salute. Kyla, con questo peso, non è un'adolescente in salute. Lei vorrebbe vivere in modo indipendente in futuro. Questo è il suo obiettivo, ma l'apatia dei suoi genitori non l'aiuta. Posso provare a comprendere Sara e Olun. Non gradiscono sostenere tanti incontri diversi sulle condizioni della loro figlia. Mi spiego. Tutti abbiamo una vita più o meno impegnativa. Non è semplice assentarsi dal lavoro, quindi probabilmente quell'agenda fitta di appuntamenti con i medici mette pressione ai genitori di Kyla. Ciononostante, dei genitori amorevoli danno sempre la priorità ai bisogni dei propri figli rispetto ai loro, visto che hanno messo al mondo quella vita. Tra l'altro c'è una miriade di servizi di cui può usufruire la famiglia di Kyla. Le autorità competenti vogliono aiutarla in vari aspetti della vita, consapevoli della pressione estenuante che subiscono i genitori di bambini con bisogni speciali. Quindi possono in parte anche di responsabilizzare i coniugi Tidford, offrendo loro maggiore supporto esterno. In queste situazioni delicate, avere qualcuno che porge la mano e si fa carico di alcune responsabilità dovrebbe essere un'occasione da accogliere a braccia aperte, perché in primo luogo è il soggetto in difficoltà che ne trae beneficio. Inoltre, come sappiamo, Kyla non è figlia unica. Affidarla degli specialisti darebbe indubbiamente ai genitori anche l'opportunità di prestare maggiore attenzione ai fratelli della ragazzina. Tuttavia, ripeto, nonostante l'assistenza offerta, la mamma e il papà di Kyla non riescono mai a collaborare con i professionisti né a trarre vantaggio dai servizi proposti. Per tale motivo alcuni di questi servizi di cui in passato Kyla aveva beneficiato ora vengono cancellati dal programma. Sulla questione alcune persone affermano che i genitori di Kyla erano sopraffatti dalla fatica e che volevano fare le cose a modo loro per impedire che degli sconosciuti entrassero in casa. Pensavano davvero di potercela fare da soli. Ora, mi permetto di dirvi che io, dopo aver studiato il caso, non credo sia andata così. La cosa è molto più semplice in realtà. La spiegazione è molto più semplice. Sarah e Olun erano pigri. La figlia per loro non rappresenta una priorità, ma una scomoda imposizione che assorbiva fin troppo tempo. Ricapitolando, i servizi che sarebbero stati utili per questa famiglia vengono cancellati dal programma e questo risvolto è angosciante. Stiamo parlando di una giovanissima ragazza disabile che meritava di cogliere ogni buona opportunità perché ha già dei limiti. Inoltre suo padre e sua madre hanno problemi pure tra di loro, dato che litigano molto spesso. Ecco l'ennesima disarmonia, oltre agli atteggiamenti negligenti nei confronti di Kyla. Non posso affermare che i genitori si disinteressassero appieno della figlia. Magari loro credevano di fare del proprio meglio, ma le cure manchevoli dimostrano che non le hanno riservato attenzioni sufficienti. Sarah e Olun spesso non hanno portato Kyla agli appuntamenti programmati e lei ha continuato ad avere problemi di capacità fisica e di peso, quindi assentarsi a queste visite è stato dannoso per la sua salute. Ad esempio, Kyla viene dimessa dalla fisioterapia nel 2017 e dal programma dietetico nel 2018. Eppure la fisioterapia per Kyla è essenziale data la sua scarsa mobilità. Tuttavia i genitori le impidiscono di svolgere quegli esercizi fondamentali. A questo punto su di loro ricade la piena responsabilità delle cure di Kyla, ma è chiaro che non sono attrezzati per accudirla. In sostanza l'abbandonano, smettono di prendere in considerazione i suoi bisogni e il fatto che non siano riusciti a collaborare con gli assistenti in precedenza, aggrava l'incuria nei confronti della loro figlia. Quindi al posto di valorizzare questa ragazza dall'elevato potenziale, curandola e facendola vivere nel benessere, Sara e Olun iniziano ad attuare comportamenti sistematici di volontaria negligenza. Dove sono andati a finire il senso di premura e compassione, il vero spirito della genitorialità? Capita a molti genitori di dover lottare nella vita perché magari si trascinano dietro problemi personali, emotivi, mentali, fisici. Ciò significa che, forse, non saranno genitori particolarmente amorevoli e presenti, eppure garantiscono una vita sana ai figli. Li nutrono, li vestono, non fanno loro patire il freddo. Quindi sono imperfetti? Certo, eppure fanno del loro meglio, almeno non negano ai figli ciò che è indispensabile. Ma nel caso di Kyla, come sto per raccontarvi, vengono a mancare anche le necessità più basilari. Sara e Olun, come detto, sono già negligenti nei confronti della figlia, ma la situazione peggiora drasticamente con l'inizio del lockdown nel 2020. Con la diffusione del covid anche i bambini più fragili si trovano isolati a stretto contatto con i propri parenti, il che diventa tragico se questi ultimi agiscono come aguzzini. Durante il lockdown tanti, ma tanti bambini nel Regno Unito hanno subito abusi e si è registrato un aumento massiccio di ingressi nel sistema di adozioni, perché lo stress molto spesso tende a esacerbare la violenza. Anche se la storia di Kyla è diversa, perché lei non ha subito una violenza diretta, ciò che vive questa ragazzina rappresenta comunque una forma di violenza domestica. La violenza infatti può essere inflitta fisicamente, oppure manifestarsi costringendo qualcuno a vivere in condizioni allarmanti, isolandolo e abbandonandolo. A mio avviso Kyla fa parte di questi adolescenti trascurati durante il lockdown. A marzo del 2020 i bambini di tutto il Regno Unito smettono di frequentare la scuola. Questo rende Kyla più vulnerabile, perché il personale scolastico, che l'ha sempre tenuta d'occhio, ora non può più farlo. Inoltre suo padre Olun lavora per moltissime ore al giorno e sottolinea di essere troppo occupato per provvedere alla figlia. Quindi la responsabilità delle cure di Kyla ricade esclusivamente su sua madre Sarah, che però non sembra avere la volontà o la capacità di impegnarsi. E quindi mi domando se i genitori di Kyla non hanno voglia di prendersi cura dei propri figli. Perché ne hanno messi al mondo così tanti? È un'equazione molto, molto semplice per quanto mi riguarda. Su Olun, sebbene lui affermi di non avere tempo a disposizione, la verità è un'altra. Lo appassiona tanto il suo lavoro, è un traslocatore e si sente sollevato quando esce di casa. Non gli è mai piaciuto prendersi cura della figlia disabile, neanche quando era molto più piccola. Olun spesso lavora tra le 40 e le 50 ore a settimana, come moltissimi altri padri. Tantissimi papà escono di casa la mattina alle 8 e tornano alle 20 di sera, stanchi morti. Eppure trovano la forza di giocare con i propri figli. E vi sto parlando di gioco, nemmeno di cure. Due cose profondamente diverse. Qualsiasi genitore amorevole si fa in quattro per regalare ai propri figli momenti felici, a prescindere dagli impegni lavorativi. Olun, invece, quando torna a casa dal lavoro, vuole concentrarsi su di sé e farsi i fatti suoi. Un po' di tempo da trascorrere con Kyla gli rimarrebbe pure, quindi è semplicemente una questione di priorità. Olun sceglie se stesso. Il suo disprezzo per la responsabilità genitoriale diventa evidente. Ma, come detto, è chiaro che nemmeno Sara, la madre di Kyla, è in grado di o è disposta ad accudire adeguatamente la figlia. Ciò che trovo sconcertante è che Sara lavora come badante nella comunità in cui vive. Questo vuol dire che esce di casa tutti i giorni per prendersi cura dei bisogni altrui, ma poi torna a casa e abbandona proprio sua figlia, che ha tanto bisogno di premura e assistenza. Il peso di Kyla durante il lockdown continua ad aumentare senza sosta. Dato che lei dipende completamente dai suoi genitori, può mangiare solo le pietanze che loro le forniscono, ovvero cibo da sport e fast food. Anche Sara e Olun si nutrono così, ma loro possono muoversi, camminare e smaltire le calorie. Inoltre, la quantità di cibo che consumano rispetto a quello della figlia è diversa. Kyla è immobile, non brucia le calorie ingerite e i genitori non fanno alcun tentativo di regolare la sua dieta e controllare il suo peso. La ragazzina in questo periodo è annoiata, sempre da sola, e il cibo diventa qualcosa che la conforta. I suoi genitori dovrebbero farle seguire una dieta sana in questo momento più che mai, dato che l'isolamento limita ulteriormente le attività della figlia. Verrà successivamente stabilito che nei tre mesi precedenti all'ottobre 2020, Sara e Olun spendono più di mille sterline in takeaway e bevande gassate. Ordinano cibo da sport tra le 4 e le 5 volte a settimana. Kyla a questo punto non riesce neanche più a salire sulla sedia a rotelle, a causa dell'aumento di peso, ma i suoi genitori non le comprano una carrozzina più capiente. Quindi la ragazzina non può più spostarsi nemmeno all'interno della sua casa. È sempre costretta a letto, dipende completamente dai suoi genitori in ogni singolo aspetto della vita quotidiana. È questa camera da letto che diventa la prigione di Kyla, versa in condizioni a dir poco disastrose. I suoi genitori la abbandonano lì, da sola, a marcire. Se Sara e Olun fossero dei genitori amorevoli, si preoccuperebbero di entrare in camera e dare una ripulita, di assicurarsi che la figlia possa espletare le proprie esigenze fisiologiche in un ambiente igienizzato. Ma purtroppo questo non accade. Quel letto diventa un bagno sudicio. La povera Kyla è circondata dalla sporcizia. Ci sono bottiglie riempite di urina, appoggiate ovunque sul pavimento. Mosche che ronzano e infastidiscono Kyla giorno e notte, impedendole di dormire. Sul letto dell'adolescente, sul suo corpo e sui suoi vestiti, ormai si contorcono i vetri, che si cibano della sua carne. Questa ragazza in pratica viene lentamente mangiata viva dagli animali. E la cosa altrettanto tragica è che Kyla capisce ciò che le sta accadendo. In questo momento, oltre a non fare nessuno sforzo per aiutarla a curare l'igiene, Sara e Olun ignorano anche i danni della salute fisica della figlia. Kyla è un'obesa patologica, incapace di muoversi dal letto, ed è in evidente pericolo, perché ha iniziato anche a sviluppare dolorose piaghe da decubito. Il suo corpo si sta deteriorando, le mosche vengono attratte dalle sue ferite, i vermi continuano a infestarla. Come detto, questa condizione inumana è aggravata dalla presenza dei rifiuti corporei di Kyla, tutti espulsi su quel dannato letto. Il tanfo che contamina la stanza è insopportabile, ma Kyla, da quell'odore sgradevole, non può fuggire. Deve sopportarlo per mesi e mesi. Kyla sognava di essere indipendente, voleva vivere la sua vita al massimo, affrontando coraggiosamente tutte le difficoltà del quotidiano, ma è diventata una prigioniera in costante stato di sofferenza e degrado. E come già vi ho detto, è tragica la sua consapevolezza dell'orribile situazione in cui versa. Kyla vede, sente, percepisce tutto il male che la circonda, l'aggravarsi delle sue condizioni, così inizia a scrivere dei messaggi strazianti a dir poco alla madre. Kyla le chiede di darle una mano perché ha una gamba che sta perdendo liquidi. In risposta alla giovane figlia terrorizzata, la madre scrive, per l'amor del cielo. Beh, ma cosa significa? È assurdo, non emerge alcuna compassione, empatia, considerazione o preoccupazione. In un'altra occasione Kyla chiede a sua madre di eliminare in qualche modo tutte quelle mosche che si posano su di lei. Pensate che Sarah le risponde, a loro piaci, lol. Trascorsi i tre mesi estivi, la scuola a settembre riapre per impartire nuovamente lezioni in presenza. Ma Kyla non torna nell'istituto, non può, non ha più nemmeno una sedia a rotelle con cui spostarsi. Il fatto che i suoi genitori non le permettano di riprendere le lezioni in presenza mi fa intuire che stanno assecondando la condanna della figlia. Il personale della scuola però si preoccupa. Dov'è Kyla? Perché non è tornata in classe come tutti i suoi compagni? Così la scuola chiama più volte gli assistenti sociali che indagano sull'assenza di Kyla. Ma Sarah inventa delle scuse, come aveva fatto in precedenza con le agenzie che avevano smesso di sostenere la famiglia, perché i coniugi non volevano impegnarsi per far funzionare le cose. È questa la verità. Arriviamo alla sera del 9 ottobre 2020. Kyla è in preda all'agonia, urla, eppure nessuno la raggiunge per controllarla. Nessuno va da lei per vedere cosa stia succedendo. I genitori si limitano a mandarle dei messaggi dicendole pure di stare zitta. La ragazza ormai non vede un dottore da 6 mesi e il suo deterioramento fisico la proietta in un incubo tangibile. È costretta a letto, non usa il bagno, né si fa una doccia da prima del lockdown. Vi ripeto, sono passati 6 mesi. È intrappolata mentre mangia, dorme ed espleta i bisogni fisiologici nel suo letto. Arriviamo alla mattina del 10 ottobre 2020. Poco dopo il sedicesimo compleanno di Kyla, sua madre entra nella sua camera da letto e la trova senza vita. La ragazzina è ancora seduta sul letto. La notte prima stava chiedendo aiuto perché stava morendo e lo sapeva. Era consapevole di avere un disperato bisogno di soccorso ma i suoi genitori l'hanno lasciata morire da sola. È Sara a chiamare un'ambulanza ma è presente anche a Olun. La donna dice al centralinista che sua figlia Kyla è fredda e che non riescono a svegliarla. Il centralinista allora prova a spiegare a suo padre, supponendosi a più energico, come praticare la rianimazione cardiopormonare. Ma Olun risponde che la figlia è morta. Non serve a niente provare a rianimarla. Il centralinista però non molla, insiste, gli dice di spostarla sul pavimento perché devono cercare di aiutarla. Talvolta infatti le persone possono apparire senza vita, il cuore può aver smesso temporaneamente di battere, ma con la rianimazione cardiopormonare è possibile salvare delle vite. Bisogna posizionare il corpo a terra. Tuttavia Olun risponde non posso farlo, è troppo pesante. A questo punto arriva l'ambulanza. Sia Sara che Olun appaiono scioccati e io mi chiedo ma come? Non credevano che la figlia sarebbe morta in quelle condizioni? Ma sul serio? I paramedici entrano nella stanza di Kyla e ciò che si trovano davanti è una scena a dir poco orribile. L'odore di carne marcia è travolgente. Si notano molteplici infestazioni di insetti. I verbi stanno ancora nutriendo della sua carne. Si sono insinuati anche tra le pieghe della sua pelle. Attaccata al soffitto c'è una carta moschicida su cui sono rimaste intrappolate più di 60 mosche ormai morte. Sotto il corpo di Kyla sono state posizionate delle traversine igieniche che si usano per i cuccioli di cani o gatti. Quando spostano il cadavere sul materasso si individuano altre mosche, altri vermi in varie fasi di sviluppo. La stanza è disordinata, anzi ma che dico immersa nel caos e ospita pure una frigitrice dove colano gocce di grasso lungo i bordi. Un'attrazione perfetta per mosche e altri insetti. Kyla viene ufficialmente dichiarata morta alle 8 e 12 del mattino. I paramedici ancora non riescono a credere a ciò che hanno visto, ma è comprensibile. Questa situazione farebbe rivoltare lo stomaco di chiunque. Stabiliscono che al momento della sua morte la sedicenne pesava 146 chili e la sua pelle è quasi interamente sfigurata dalle ulcere. Le piaghe da decubito sono tra le più gravi che gli esperti abbiano mai visto. Diverse ferite aperte espongono il tessuto adiposo. A causa dell'immobilismo di Kyla così prolungato, un'ulcera posizionata sul tallone destro è arrivata a esporle l'osso. Le sue ascelle appaiono annerite, i suoi capelli sono incrostati, il cuoio capelluto è coperto da uno strato di cellule morte. Gli esperti stabiliscono che i vermi individuati mentre si nutrivano del corpo della sedicenne erano stati rilasciati 48 ore prima. Questi vermi compivano e riattivavano il loro ciclo di vita su di lei. Le larve venivano deposte, si schiudevano e si nutrirano della sua carne ancora e ancora. Una volta eseguita l'autopsia viene determinato che la principale causa della morte di Kyla è stata un'infiammazione causata da un'infezione, inestese aree ulcerate, complicanze dell'obesità, della spina bifida e dell'idrocefalo. Quando a Dolun viene chiesto chi sia il responsabile della morte di Kyla, l'uomo addossa tutta la colpa a sua moglie. Afferma che lui era molto impegnato nella sua attività, stava lavorando per parecchie ore al giorno e secondo i suoi calcoli l'aveva fatto per 15 giorni di fila prima della morte della figlia. Si dice convinto che sua moglie si stesse prendendo cura di Kyla in modo adeguato. Se lui aveva smesso di accudirla era perché si sentiva a disagio dato che Kyla era entrata nella fase della pubertà. In sostanza quest'uomo sta scaricando tutta la colpa sulla moglie. Forse vorrebbe sfuggire alla realtà di questo terribile abuso, ma le sue affermazioni non possono dargli scampo. La verità è che Olun non prestava attenzione alla figlia, era entrato solo qualche volta nella sua stanza quando tornava dal lavoro, ad esempio il giorno del suo compleanno, ovvero il 27 settembre. Chiunque avesse avuto occhi, naso e cervello avrebbe intuito immediatamente che Kyla viveva nello squallore più totale. Come non poteva notarlo proprio lui? Quindi Olun mente quando afferma che non ne sapeva nulla e che era convinto che sua moglie si prendesse cura di Kyla. Quando entrava nella sua camera e si guardava intorno, non si rendeva conto che sua figlia stava vivendo in condizioni disumane. Il suo naso non percepiva il tanfo che si diffondeva in tutta la casa, non solo in camera di Kyla. Allo stesso modo Sara afferma che è tutta colpa di suo marito. Eppure questa famiglia aveva avuto ampia opportunità di ricevere l'aiuto da così tante agenzie, ma aveva sempre rifiutato il supporto. I coniugi Tidford avevano scelto la strada da intraprendere, diventare i badanti della figlia, ma poi erano rimasti fermi nella loro negligenza. La polizia si rende immediatamente conto che è stato commesso un crimine. Niente di quello che la coppia dice ha una giustificazione, quindi sia Sara che Olun vengono arrestati e accusati di omicidio colposo per grave negligenza e per aver causato o consentito la morte di una bambina vulnerabile. Arriviamo al dicembre 2020. Dopo aver negato le accuse inizialmente, Sara Lloyd-Jones, di 39 anni, decide che si dichiarerà colpevole del reato di grave negligenza e omicidio colposo, perché sa che così avrà l'opportunità di ottenere una condanna più clemente. Al contrario, Olun Tidford, di 44 anni, afferma di essere innocente, ripete che lavorava troppo e non si era reso conto che le cose stavano peggiorando così tanto. Eppure, mentre sua figlia era in agonia a un passo dalla morte, lui le aveva inviato un messaggio spietato chiedendole di tacere. Il 17 gennaio 2022 il processo a carico di Olun inizia nel Galles del Nord. L'accusa dichiara che Kyla viveva in condizioni inadatte anche per qualsiasi animale, figuriamoci per una ragazza vulnerabile di 16 anni che dipendeva dai genitori per le sue cure. Per condannare l'imputato è necessario provare che aveva avuto un dovere di diligenza nei confronti della vittima e, come padre di Kyla, Olun aveva chiaramente il dovere di prendersi cura della sua salute e del suo benessere. In secondo luogo, l'accusa deve dimostrare che il dovere di diligenza era stato violato perché l'imputata aveva permesso alla figlia di raggiungere uno stadio di obesità grave. Inoltre non si era preso cura dell'igiene di base di cui lei necessitava. Infine, non era riuscito ad aiutarla quando ne aveva bisogno. Quindi Olun aveva violato il suo dovere di diligenza senza alcun dubbio e, come sostengono gli inquirenti, questa violazione aveva causato la morte della ragazza in circostanze dove il rischio del decesso era evidente. Non emergono altri fattori a cui è imputabile la morte di Kyla. C'è stata una mancanza di proattività anche da parte di Sara, la madre, e l'assenza di ulteriori input da parte delle aziende esterne, il che ha contribuito a suggellare un triste destino per la sedicenne. Ma niente di tutto ciò riduce la colpevolezza di Olun. L'accusa spera che la giuria si convinca che questa negligenza è stata così grave da configurare un crimine. L'imputato però nega tutto affermando di aver fornito delle cure adeguate a Kyla. Come si fa ad avere il coraggio di affermare una cosa del genere? Ma che faccia da culo bisogna avere per dire una roba del genere? Io vi ricordo che stiamo parlando di sei mesi di continua negligenza criminale che ha portato alla morte dell'adolescente e quando gli chiedono perché avesse trattato così sua figlia, perché non le avesse prestato le giuste attenzioni o cure, Olun sapete cosa risponde? Oh beh, sapete sono pigro. Sì esatto, quest'uomo ha lasciato marcire la figlia nel suo letto fino a morire per pigrizia. Arriviamo al febbraio 2022. Dopo sette ore di deliberazione la giuria dichiara Olun Tidford colpevole di omicidio colposo per grave negligenza. I giurati ricevono un'esenzione di dieci anni dal servizio di giuria perché per loro è stato traumatico esaminare gli orribili dettagli sulla vicenda. Il primo marzo 2023 il giudice pronuncia la sentenza. Olun Tidford viene condannato a sette anni e sei mesi di carcere. Quanto alla mamma di Kyla, Sarah Lloyd-Jones, viene condannata a sei anni di carcere. Ma, trovo che sia incredibile, in caso di buona condotta potrebbe uscire di prigione dopo cinque anni. La madre di Sarah sostiene che sua figlia, durante la pandemia, era caduta in una profonda depressione. Si era quindi indirettamente sottratta alle sue responsabilità quotidiane. Ecco perché non riusciva a prendersi cura di Kyla. Dopo la morte di Kyla, la depressione di Sarah non aveva fatto altro che peggiorare. Tuttavia il giudice respinge questa ipotesi e delinea il quadro di una persona che si preoccupa solo di se stessa. Niente di più. Il giudice poi sottolinea che la coppia aveva ricevuto sostegno dai servizi sociali, ma l'aveva rifiutato, scegliendo di non accedervi. Quindi la responsabilità di ciò che è accaduto a Kyla è solo di suo padre e di sua madre. Arriviamo alle conclusioni di questo caso a dir poco tragico e terribile. Sarah ha ricevuto una condanna inferiore a quella del marito perché ha ammesso le proprie colpe. Tuttavia sei anni di prigione, per quanto mi riguarda, suonano come una barzelletta. A mio avviso questi due soggetti non hanno trascurato solo la figlia, ma l'hanno anche torturata. Kyla ha vissuto sei mesi di agonia, abbandonata in una camera da letto diventata una sporca prigione. Onestamente non mi importa se prima di questo tracollo Sarah e Olun fossero stati amorevoli con la figlia, magari in momenti migliori. Perché ciò che siamo disposti a fare nei periodi bui che identifica che tipo di essere umano siamo? Ecco, loro per me sono due pessimi esseri umani. Anzi, credetemi, pronunciare questa parola, umani, nei confronti di simili individui mi risulta difficile. Perché abbandonare una figlia con questa non curanza non ha niente di umano. Rabbrividisco quando penso che Olun ha affermato di non essersi più occupato di lei per pigrizia. Come si fa a permettere che una ragazzina di 16 anni sia ridotta in quello stato? Come facevano a vivere in quella casa con questa consapevolezza? I giovani con delle disabilità sono esposti a un maggiore rischio di abuso e le circostanze di Kyla erano sicuramente aggravate sia dall'isolamento forzato sia dalla mancanza di una supervisione professionale. Si riscontrano grossi problemi anche con gli assistenti sociali. Si registra costantemente una percentuale del 15-20% di posti vacanti nell'assistenza sociale del Regno Unito. Perché è un lavoro effettivamente impegnativo e spesso gli operatori vengono pure guardati con sospetto anche se l'unica intenzione che hanno è quella di aiutare. Nel caso di Kyla questa è stata la tempesta perfetta e implacabile. Sara e Olun hanno rubato il futuro alla figlia, una ragazzina che aveva lottato duramente per vivere una vita normale. Era così coraggiosa, grintosa, piena di vita e di speranze, ma alla fine è stata dimenticata, condannata a morire in una stanza fetente, da sola e in agonia. Mi si spezza il cuore pensando che la casa per questa ragazza indifesa avrebbe dovuto essere un posto sicuro in cui essere amata per quello che era. E mi rattrista immensamente anche che questa adolescente così sportiva sarebbe potuta diventare un'atleta paralimpica, ma invece è rimasta bloccata a letto perché i genitori non hanno prestato attenzione alla sua dieta. Questo caso mi angoscia profondamente e mi ricorda quello di Lacey Fletcher, di cui vi ho parlato in un altro video. Lacey, una ragazza autistica, è stata abbandonata dai genitori per oltre un decennio su un divano infestato dai vermi, a nutrirsi di imbottitura e a marcire mentre era in vita. Il suo caso è ancora più drammatico e angosciante. Infine vi chiedo, cosa ne pensate delle condanne inflitte a Sara e Olun? Pensate come me che siano ridicole. A tal proposito mi risulta che dopo una revisione della sentenza Olun dovrà scontare dieci anni di carcere. Bene. Mentre Sara Lloyd-Jones ne sconterà otto. E chiaramente non scontano così tanti anni perché hanno commesso un omicidio colposo. Quindi è come se Kyla fosse morta ma non per loro volere diretto. Ecco perché le pene sono così leggere purtroppo. Comunque condividete i miei sentimenti rispetto a questa storia. Fatemi sapere quali sono le vostre opinioni su questo caso a dir poco disumano. Davvero. Quindi io ho finito di parlare in questo video e vi mando un bacione. Noi ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Mi raccomando fate i bravi. Continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non facciate nulla di criminale. Ciao a tutti. Ciao a tutti.